Continuano senza sosta i vertici tra le istituzioni coinvolte nel piano scuola sicura in vista del prossimo 15 settembre quando si rientrerà in classe al 100% della capienza. Stamane l'incontro improvvedito rato che ha visto seduti allo stesso tavolo il dirigente scolastico provinciale, il comune di Avellino, l'Aire e la Sita. I trasporti, un puzzle difficile da completare, un disegno per cui mancano ancora dei pezzi base. Come far arrivare i ragazzi a scuola garantendo la sicurezza allo stesso tempo evitando di congestionare il traffico del capoluogo che facilmente rischia il tilt? L'ipotesi delle navette dedicate per il campus sembra tramontata perché di difficile fattibilità. Anche la possibilità di non far fermare bus a i terminal per portare i ragazzi direttamente a scuola non è stata recepita positivamente dalle due aziende di trasporti locali. In queste ore si stanno svolgendo sopralluoghi tra il piazzale degli Irpini, piazza Kennedy e Campetto Santarita. Domani l'ennesimo aggiornamento, sicuramente non l'ultimo. Si spera che il prossimo weekend possa vedere la quadra del piano trasporti. Così come anche per questo weekend è prevista la risoluzione degli incarichi da assegnare, bloccati per un errore dell'algoritmo. 750 profi stand-by per cui si sta procedendo per la verifica delle assegnazioni. Ad essere ottimista, già a mercoledì si potranno far ripartire le mail di convocazione, termine massimo la fine della settimana. L'anno scolastico non è a rischio e in nessun modo rassicurano le istituzioni preposte alle verifiche. La campanella suonerà regolarmente con tutti i prof al loro posto.